Mi chiamo Lorenzo e sono un viaggiatore. Il mio progetto si chiama Vostok 100k. Viaggio col mio vecchio camper, ma anche a piedi. L'importante è raccontare. Queste sono le Vostok Drops, piccoli video pubblicati sui social nel corso dei miei viaggi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 12 novembre. Record personale del bagno. E' a fine stagione. Battuto. Molto bello qui.